Prego. Jean, mi senti? Si, ora è dover e mi chiamo Carol. Si, ci vediamo domani, eh? Ciao, 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 ciao. Ehm, che piatto meraviglioso. Buon appetit. Mmm, che buon tè, che buon tè, c'è delizioso. Io penso che la gente diventi frustrata, depressa, perché non gode, non sente più le cose, non si prende più il tempo di farlo. Il vino, il cibo, la bellezza di stare con una persona.